Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day, o hai un indian che venga a vendimi con l'angisca. Allora che a 3D ho domandato informazioni sulla sua famiglia, allora dite che la famiglia è in l'India e va là due mesi ad anno, perché per la resta arriva a mantenere il giro qui a vendere roba. Poi bene, gli dite, c'è fameato, e ho la femmina, la dite, due figli e dopo ho i miei vecchi, le infamee. Subito gli hai domandato se la sua femmina è leve d'accordo con la sua madonna, che sarebbe il suo mare di lui. Chiaro, mi dite, allora, il pari delle femmine e i miei pari e sono fratelli, che noi o siamo cousins. Loro hanno deciso che noi vengono sposarsi, io e la femmina, quanto vengono siete volte? Dopo, o se siamo sposati di fatto, abbiamo chiesto, che io, la mia femmina, le hai vedute sempre da me di lontano. E noi obbediamo i genitori e ci vogliamo bene anche noi, io e la femmina. E la mia femmina va d'accordo con la sua madonna che mi amare, ma è anche su Agne. Vedete, tal mondo sta di tutto e non è mai pieno. Buona giornata e buona vita. Grazie.